Giancarlo dall'Aglio, Comodities Trading, buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio Alexandra, un saluto a tutti. Ecco, innanzitutto vorrei partire da questa possibilità che c'era, almeno sto parlando in passato perché sono arrivate le indiscrezioni, dunque l'Unione Europea stava considerando di bannare le importazioni di Greggio da parte della Russia, però per il momento sono arrivate qualche ora fa le indiscrezioni stampa che questo non sarà possibile perché non è stato trovato un accordo all'interno del blocco. Quindi che cosa è che oggi sposta il prezzo del petrolio? Allora, fa un po' sorridere, anzi dovrebbe provocare una reazione avversa, sentir parlare di ban totale delle forniture petrolifere della Russia perché se andiamo a fare due conti è vero che la Russia probabilmente in questo momento già sta dando circa fra i 2 e i 3 milioni di barili in meno al mercato, questo perché vi sono problemi logistici, problemi di finanziamenti, problemi nello stoccaggio e anche di consegna del petrolio, insomma nessuno va a ritirare petrolio in Russia in questo momento, tantomeno la Russia manda petroliere perché ci sono tutti i blocchi delle transazioni finanziarie e ovviamente il rischio sarebbe elevatissimo. Tutto questo si traduce appunto in un deficit ulteriore di offerta in un mercato che già prima del conflitto era molto teso e infatti già da mesi parliamo della possibilità, avevamo parlato della possibilità di raggiungere questo target a 100 dollari per barile perché la domanda rimane molto forte, tutto è stato acquito naturalmente dopo l'inizio del conflitto quindi da un mese a questa parte, ciò che si nota è che si vanno delineando però degli intervalli di prezzo abbastanza definiti e cioè i 130 dollari del WTI probabilmente cominciano a scontare tutti gli scenari negativi e i 95, 94, 90 dollari invece una serie di scenari positivi, per esempio la vittoria della diplomazia insomma che tutti ci augureremmo e quindi operativamente probabilmente gli operatori adesso guarderanno a questi due livelli di prezzo, in realtà si stanno configurando trading range un po' su tutti i settori critici, anche quello delle agricole che magari vediamo successivamente. Tornando al petrolio, se andiamo a fare una proiezione nel medio-lungo periodo la domanda rimarrà forte e potrebbero mancare all'appello circa 6-7 milioni di barili al giorno se continuasse questo blocco che viene intimato continuamente al petrolio russo. Come si può ovviare? C'è una capacità inutilizzata dell'OPEC di un milione e mezzo di barili al giorno, soprattutto perché l'Arabia Saudita può produrre di più, c'è la questione Iran circa 1,4 milioni di barili al giorno, il Canada circa mezzo milione di barili e però vengono meno appunto i 3 milioni della Russia e la produzione non-OPEC di 2 milioni. Insomma, al netto c'è un grosso deficit. Questo che cosa può significare? Prezzi ancora più alti nei prossimi mesi barra anni, al netto di quello che sarà la soluzione del conflitto e una possibile distruzione della domanda. Come sottolineavi tu, Powell, ha detto che la recessione non è nell'ordine delle cose, insomma non è pianificata, non è in agenda, nonostante l'aggressività della banca centrale americana almeno a parole nel voler alzare ulteriormente i tassi, però è evidente che a un certo punto subentrerà una distruzione della domanda se i prezzi dovessero tornare per esempio ai massimi del 2008 o anche superarli, considerato che abbiamo un cambio differente nei confronti delle altre valute e anche nei confronti dell'Euro, per cui insomma i 148 del 2008 oggi corrisponderebbero ai 190 dollari all'incirca. Quindi insomma la situazione è nettamente rialzista ancora per il futuro. Ecco, volevo semplicemente capire perché avevi menzionato l'Iran, però è possibile effettivamente sostituire il greggio russo con quello dell'Iran? Ovviamente stiamo parlando ipoteticamente per ora. L'Iran è una delle opzioni perché insomma i colloqui sono andati avanti, adesso negli ultimi giorni non se ne parla più, ma fino a due settimane fa sembrava che ci fosse l'87-90% di probabilità che l'Iran tornasse sul mercato e quindi si eliminasse l'embargo secondo le fonti iraniane. Un'altra opzione è quella del Venezuela, anche lì sono stati avviati i colloqui, quindi insomma si cercano fonti di approvvigionamento alternative, però tutti gli attori di mercato sanno che non si può eliminare completamente la Russia. La Russia produce attualmente 11,1 milioni di barili al giorno, secondo gli ultimi dati, in flessione rispetto a qualche mese fa quando aveva raggiunto gli 11,9 milioni di barili. Anche la Russia ha gli stessi problemi degli Stati Uniti di mancanza di investimenti che negli ultimi anni sono totalmente saltati, insomma dalla crisi del 2014 le compagnie petrolifere e anche i governi che hanno compagnie statali non investono più nella ricerca, non investono più nelle trivellazioni, anche perché si sa insomma che si dovrebbe andare verso le energie rinnovabili, verso le energie alternative. Ecco scusami, hai detto una parola importante, energie rinnovabili, energie alternative, è target net zero che è giusto ricordare che sono target veramente di lungo termine, stiamo parlando di 2050, 2060, però considerando il contesto di oggi dove il vento purtroppo non riesce a darci l'energia, il sole per il momento non riesce ad essere fonte di energia sufficiente, intendo dire nella nostra vita quotidiana, specie durante l'inverno. Ecco a tuo avviso questi target verranno per forza messi un pochettino da parte? Beh sicuramente c'è stata una grande pausa e una grande riflessione perché si era partiti veramente al massimo della velocità, volendo addirittura bandire in tempi anche più brevi i combustibili fossili, poi sappiamo che per esempio l'Unione Europea è tornata sui propri passi qualche mese fa dichiarando il gas naturale non più inquinante, non più da mettere al bando. La stessa cosa viene fatta oggi con il petrolio, addirittura si è ritornati ad aprire miniere di carbone, quindi considerata però la difficoltà nell'accedere a queste risorse e quindi non è facile riaprire al carbone in tempi brevi, non è facile aumentare la produzione di gas naturale in tempi brevi, non è facile rifare investimenti sul petrolio. Tutto questo porta naturalmente, considerata la domanda che è aumentata, perché effettivamente le rinnovabili non risolvono nulla, almeno nel breve o comunque risolvono molto poco, alcune nazioni, vedi il Belgio, hanno rinviato per esempio la chiusura degli impianti nucleari. Credo che bisognerà ripensare tutto, probabilmente lo stanno già ripensando e la famosa agenda è stata decisamente rallentata se non bloccata. Questo punto a mio avviso era estremamente importante da fare, detto ciò spostiamoci verso i metalli preziosi, abbiamo visto cosa è successo con il nickel nelle ultime giornate, specie sul mercato di Londra, però guardiamo quel metallo più importante, se vogliamo dirla così, stiamo parlando dell'oro, questi sono i features come sempre, rimane nel range in queste ultime giornate tra 1920-1950 al massimo, quindi qua si può dare un target, il mercato è troppo volatile, bisogna possedere l'oro in questo contesto di incertezza, Giancarlo? Secondo me in questo momento il mercato è molto dubbioso perché ci sono di nuovo due forze contrastanti, durante la salita dell'oro che ha fatto anche nuovi massimi assoluti a marzo, l'oro era esclusivamente bene rifugio. Nel momento in cui la Fed diventa più aggressiva e quindi Powell più Falco e si pensa reiterati aumenti dei tassi di interesse, subentra l'altra forza che è quella ribassista, perché nel momento in cui aumentano i rendimenti e nel momento in cui aumenta il prezzo del dollaro americano, tutto questo va contro il rialzo dell'oro e quindi in questo momento c'è un gran combattimento, una grande lotta fra chi vorrebbe comprare oro come bene anti-inflazione e come bene rifugio e chi invece vende oro sulla scorta delle intenzioni delle banche centrali, la Fed guida ma tutte le altre poi si allineano. Quindi c'è un po' di contrasto. C'è da dire però un'ultima cosa, mai come in questo momento le banche centrali stanno accumulando oro, soprattutto le banche centrali di India e Cina, la Russia ha grandi riserve di questo metallo prezioso e quindi ritorna in auge l'oro fisico come accumulo da parte dei governi e delle banche centrali. Questo è un elemento potenzialmente piuttosto rialzista. Ottimo, andiamo a vedere rapidamente anche Palladio e Platino, soprattutto perché vorrei chiederti come mai il Palladio oggi cede il 4%, ci siamo persi qualcosa? No, non ci siamo persi niente, semplicemente oggi se facciamo caso questi rialzi e questi ribassi avvengono sui vari settori critici all'unisono. Mentre ieri avevamo i preziosi, in particolare il Palladio che tendeva a salire, il petrolio in rialzo e le granaglie molto forti, oggi abbiamo la situazione contraria. Questo dipende dalle motività del mercato e dalle prospettive di risoluzione o quantomeno di inizio di colloqui seri per quanto riguarda il conflitto. Quindi stiamo assistendo a questi movimenti assolutamente in contemporanea. Ieri il grano ad esempio guadagnava fino a 70 punti, oggi nel pomeriggio è leggermente negativo. Palladio negativo, Platino negativo e quindi si muovono un po' tutti i comparti insieme. Ottimo, volevo semplicemente chiederti che cosa ci stai consigliando in questo contesto di grande incertezza. Poi per carità è veramente difficile prevedere un qualsiasi tipo di movimento anche sul mercato delle materie prime dove io ricordo solo qualche trimestre fa le dinamiche principali erano la domanda e l'offerta e da lì dove ovviamente poi andavamo a considerare i movimenti. Ora però non è così, non è così a partire dai metalli preziosi, abbiamo visto anche cosa sta succedendo con il nickel che non è per forza metallo prezioso per carità. Poi un parere anche sulle soft commodities perché sappiamo che comunque l'Ucraina e la Russia anche lì sono dei grandi protagonisti quindi non bisogna sottovalutare anche questo contesto perché io vorrei ricordare ai nostri telespedatori che l'olio di girasole proprio mi sembra un bene quasi impossibile da trovare. Ci sono stati addirittura dei conflitti in alcuni supermercati per potersi acquistare olio di girasole, una cosa che onestamente io lo confesso tre mesi fa non l'avevi mai immaginato. Sì è vero, anche qui l'emotività la fa da padrona. Che dire in questo momento? Il platino a 1000 dollari mi piace perché c'è sempre in ballo la questione delle tecnologie di alimentazione ad idrogeno e quindi credo che tornerà in auge molto presto. Adesso il ribasso è stato accompagnato dal ribasso degli altri metalli quindi il platino con meno personalità si aggancia e segue gli altri. Però è un metallo che a questi prezzi diventa interessante. Per quanto riguarda le agricole siamo in una fascia, ecco per esempio il grano a 1380-14 ha scontato probabilmente tutta la negatività possibile, cioè conflitto che continua e impossibilità da parte della Russia che verrebbe bannata e dell'Ucraina che sarebbe impossibilitata ad esportare la sua produzione e quindi 1400 significa il venir meno di un 29% dell'export globale di grano. Parliamo di record di tutti i tempi a 1400, cioè prezzi superiori a quelli del 2007-2008. Il mais è da guardare, le semine iniziano a metà aprile sia in Europa sia negli Stati Uniti e quindi per il nuovo raccolto, cioè scadenza dicembre 2022, stiamo assistendo, ieri abbiamo assistito a nuovi massimi. È una commodity da tenere d'occhio sui ritracciamenti secondo me, è da comprare anche perché c'è tutta la questione dei fertilizzanti che è venuta alla luce già da qualche mese ma che adesso si è aggravata. Ricordiamo che la Russia è un importantissimo produttore di fertilizzanti per il mais. Senz'altro. Questi due mi sembrano interessanti, oltre ovviamente al MAST che è il settore dell'energia, gas naturale da comprare su tutti i ritracciamenti, petrolio da detenere magari sotto forma di titoli altamente competitivi. Assolutamente sì, infatti Alberto ci stava scrivendo un immancabile parere sul grano, però l'abbiamo già fatto e ringrazio Giancarlo Dall'Aglio, Communities Trading, grazie per il tuo contributo, alla prossima e naturalmente buon lavoro. Un saluto a tutti voi, ciao Alessandra. Io non ti vedo, eccoti qua, eccoti qua per un saluto giusto, grazie e alla prossima ancora. Ciao a tutti.